Ok, nella seconda parte quindi della lezione continuiamo l'esercizio, nel frattempo ci sono alcune domande che sono arrivate durante l'intervallo, Alessandro è preoccupato, ho già risposto in chat ma lo dico in voce così rimane registrato, è preoccupato del fatto che a giungere il vincolo la differenza maggiore di 0 ci faccia perdere dei dati, sicuramente ci fa perdere delle coppie di valori, ma sono le coppie di valori che comunque non ci servono per creare gli archi, nel senso che gli archi devono essere solamente tra vertici, tra business che hanno un certo punteggio verso business che hanno un punteggio maggiore, quindi tutte le volte in cui ci sono due business che hanno punteggio uguale, quindi differenza 0 oppure punteggio al contrario, nel senso che B2 è più piccolo di B1, l'arco non mi serve quindi lo casso direttamente a livello di query, ovviamente in questo maggiore minore, il fatto che i business siano diversi non ho indicato un ordine, come dicevamo già prima nella risposta alla domanda precedente e quindi ho tutte le coppie possibili e faccio sopravvivere solamente quelle in cui la relazione tra i due pesi, tra i due numeri di stelle è positiva. C'è una domanda di Giorgia sulla sua query che magari conviene prendere a parte, perché magari finalmente si deve baggare questa query, quindi se non ti dispiace la possiamo vedere poi magari in chat alla fine della lezione, perché non è immediata da vedere, ma la guardiamo sicuramente, poi Alessandro mi dice Average R1.stars meno Average R2.stars, non ottengo tutti quelli che ho scartato nell'altro caso? Non ho tanto capito la domanda, ma in realtà io faccio tutta la differenza tra le medie, ma poi questo è Heving in fondo, cioè butta via tutti i casi in cui la differenza sia negativa o nulla. Quindi il calcolo lo faccio su tutti e poi dopo che ho fatto questo calcolo, ricordatevi che Heving è l'ultima clausola che viene processata dopo aver fatto tutto il resto, vengono eliminati tutti quelli che non soddisfano questo criterio. Michele, fare i controlli sulle medie lato codice è equivalente o è preferibile scartare gli archi che ci servono già nella query? E la risposta che ti do è la stessa che ho sempre, dipende da come ti senti, da come ti senti pronto, se preferisci fare il controllo del lato codice, fare il lato codice, se preferisci fare una clausola in più complicando un po' la query, alla fine dipende se ti senti più sicuro nel lavorare in SQL o nel lavorare in Java, dal punto di vista della correttezza, comunque non c'è la correttezza del codice del risultato, sono equivalenti, sono indifferenti, quindi puoi scegliere cosa fare. Ecco, l'unica cosa che vi chiederei di non fare, perché se no sicuramente vi andate a impanicare, è fare le join lato Java, quindi doppio loop in cui vado a cercare, dato un elemento di una collection, quale è l'elemento di una collection corrispondente, eccetera, perché quello sicuramente quando vedo quei doppi, trippi loop, anni dati per andare a colgare i dati, uno dice ma scusami, dietro hai un database o hai un grafo, interroga quello, quindi in quel caso, ma non perché sia sbagliato, dal punto di vista dell'efficienza forse un po' lo è, ma non ci interessa tanto di fare sede d'esame, ma perché è facile trovare dei bachi, introdurre dei bachi se uno si mette a fare troppi cicli anni dati. Sì, c'è Phoenix scritto in due modi diversi, perché quelli sono dati veri, diceva Simone, fate attenzione che c'è una città che si chiama Feonix e non Phoenix, e le trattiamo per ora, non c'entra, trattiamole come se fossero città diverse, molto probabilmente è un errore di battitura, ma ovviamente il database non l'abbiamo inserito a mano, noi, era già così, l'abbiamo scaricato da internet così, e quindi purtroppo è uno dei problemi che salta fuori quando lavori con dei dati reali, c'è il problema di pulizia dei dati, cioè i dati sono quasi sempre sporchi e contengono, ricordate quello che abbiamo fatto in laboratorio, sulle temperature, c'erano dei buchi, dei giorni in cui mancava il dato, e allora cosa faccio quando manca il dato? Cosa faccio? Non lo so. Oppure ci sono delle città che potrebbero essere la stessa, ma scritte in un modo sbagliato, allora cosa faccio? Questo è un problema, anche nei casi reali, è un problema serio, cioè avere dei dati non significa che questi dati siano puliti e pronti all'uso, ma devono essere, diciamo così, appunto, l'operazione che si chiama proprio di data cleaning, cioè di ripulitura dei dati, riempimento dei buchi, eliminazione dei duplicati, eccetera, eccetera. Per ora il database per noi è dato, quindi ci lavoriamo così e facciamo finta che siano due città diverse. Ok, andiamo avanti, allora dobbiamo prendere questo e metterlo nel codice, quindi operativamente prendiamo questa query, prendiamo il nostro DAO e aggiungiamo un nuovo metodo, lo metto qua all'inizio, public, calcola, archi. Questo, ovviamente, sarà il solito metodo che riceverà la città e l'anno, ma soprattutto che cosa deve restituire come risultato? Beh, deve restituire un oggetto che contiene i due ID dei due archi e il peso. Ok? Quindi mi serve un oggetto, mi struttura una lista di oggetti che in realtà non ho ancora. Posso chiamarlo arco del grafo, o connessioni, o adiacenza, chiamarlo come volete. E questo oggetto lo devo creare, lo creo nel model, un nuovo classe, che chiamo arco grafo, che a questo punto conterrà due stringhe, business ID1, business ID2 e peso. e mi creo costruttore e getter setter. Aspetta un attimo, perché? Allora, sorgente, crea costruttore usando i campi, ok, e poi i getter setter dei vari campi, sorgente, getter setter di tutti i tre campi, ecco qua. Ok, quindi così abbiamo l'oggetto semplice, con ciò che ci serve, e lo possiamo usare come valore di ritorno, importandolo dal model, come valore di ritorno di questa funzione. E a questo punto avremo string SQL, uguale, quel mostro di prima, ho fatto un coppia di troppo in mezzo, quindi la riprendiamo da ID, la ingressiamo qua, e mettiamo al suo posto gli spazi, al posto di Phoenix mettiamo punto interrogativo, al posto di 2005 mettiamo l'altro punto interrogativo, e poi da qui in poi c'è il solito codice classico del metodo del DAO, list di arco-grafo, result uguale, un array list, poi abbiamo, prendo la connessione, uguale vbconnect.getConnection, e poi finalmente try, prepareStatement, st uguale, connection, punto prepara, con questo SQL, imposto i parametri, setString, parametro 1, siti, st setInt, parametro 2, anno, punto getValue, e poi eseguo la query, result set, result uguale st, punto execute query, ed estraggo i valori del result set, while, result set punto next, per ogni valore aggiungo un elemento alla lista result, result punto add, di new arco-grafo, che ha business ID, business ID e il peso, che estraggo dalla query, il primo si chiama result set punto getString ID1, si chiamava la colonna, l'altro, ma guarda ho capo, magari più facile da leggere, l'altro si chiama result set punto getString ID2, e poi il terzo parametro sarà result set punto getDouble, della colonna che si chiamava differenza, eccola qua, differenza, e questo lo metto, lo aggiungo al result set, dopo di che, connection punto close, result set, e return result, poi avrò la gestione delle eccezioni, catch SQL exception, exception, con l'eccezione, con l'h, ID2 è scritto male, grazie Alessio, ok, allora questo è, se dovrebbe essere semplicemente una query che mi dà gli archi, che possiamo richiamare dal modello, quindi torno sul model, torno sul model, e a questo punto, siamo nell'ipotesi 3, 3, diciamo così, leggo gli archi, uso, faccio calcolare gli archi di database, quindi, creerò questa lista di arcografo, uguale, diciamo, gli archi, la faccio calcolare dal DAO, calcola archi, sempre siti hanno, e poi, per ogni, per ogni arco, arco di questa lista di archi, dovrò aggiungere un arco vero e proprio al grafo, ok, l'arco pesato, la difficoltà qui, che a questo punto, però nell'oggetto arcografo, ho solamente l'ID del business, e non ho l'oggetto business vero e proprio, e allora, mi ricordo che mi serve una mappa, per mappare comodamente i vertici in oggetti, ok, perché io avendo arco, punto, get business id 1, ma in realtà, nell'aggiunta dell'arco, mi serve l'oggetto business, che è il vertice, in realtà, questo lo posso fare facilmente, anche senza andare a modificare il DAO, semplicemente, qua nel metodo crea grafo, potrò aggiungere l'ID map, quindi chi di voi prima mi aveva detto, ma guarda che ti serve forse una mappa, ci aveva visto lungo, ovviamente, io avevo detto, se mi serve lo aggiungo, e adesso lo aggiungo, quindi mappa da stringa a business, vertici id map, e poi quando inizializzo questa mappa, nello stesso momento in cui creo i vertici, quindi qua, dentro la crea grafo, ho letto i vertici, e lo posso fare direttamente qui, senza farlo fare al DAO necessariamente, io ho l'elenco di vertici, posso tranquillamente inizializzarmi la mia vertici id map, new hash table, hash map, e poi per ogni vertice, for business, b, nella lista di vertici, semplicemente, lo aggiungo alla mappa, put, b.getbinisid, b, faccio mappare l'id che mappa sull'oggetto, quindi, me la sono calcolata quando mi serviva, sono tre righe di codice, e adesso la uso, perché posso a questo punto, aggiungere graphs.addedge, al grafo, this.grafo, aggiungerò, il vertice di partenza, che è, this.vertici.idmap.get, arco.getbusinessid1, ok, arco è l'oggetto, che mi ritorna dal database, prendo il suo id, poi vado a consultare la mappa, idmap, dei vertici, e mi dà l'oggetto vertice, l'oggetto vertice, quindi può essere l'oggetto di partenza, del grafo, quindi posso prendere questa cosa qua, e copiarla come secondo parametro, dell'addedge, vado a capo, il terzo parametro dell'addedge, sarà identico, cioè il vertice di destinazione, vado semplicemente a prendere l'id2, il terzo parametro dell'addedge, è il peso, che ho già direttamente nell'oggetto arco, getPeso, ok, quindi questi archi non contengono oggetti interi, contengono solamente degli id, ma per ottenere l'oggetto intero, vado a, mi chiede Giovanni di far rivedere il codice in cui riempio la mappa, la mappa la riempio in queste tre righe qua, quindi creo la mappa, e poi scandisco tutti i vertici, che ho appena letto del database, quindi se io dovessi fare un creagrafo di nuovo, quella mappa la butto via e la ricostruisco, e per ogni vertice, quindi per ogni business, la chiave della mappa è la stringa business id, e il valore della mappa è l'oggetto b, per e proprio, quindi anziché farlo creare contestualmente dentro il DAO, l'ho fatta, diciamo così, a posteriori dentro il model, poco cambia, ok, a questo punto dovrebbe, dovrebbe funzionare, c'è un errore qua nel model rosso, perché, è scomparso, proviamo a fare un altro run, a questo punto vediamo, il nostro solito Phoenix, che è da qualche parte con la P, eccolo qua, 2005, 28 vertici, e 274 archi, che è il valore che, se non sbaglio, ci aspettavamo, e quindi 974, sì, è il numero giusto, ok, e quindi abbiamo completato anche il punto C, adesso bisogna provarlo con altri valori, ma diciamo, quelli sono abbastanza confidente, che vada bene anche negli altri casi, quindi possiamo dare per risolto anche il punto 1C, facciamoci il nostro commit diritto, aggiungiamo questo arcografo, chiaramente, e poi questo è il commit, il punto 1C, delle tre ipotesi, se dovessi dare un commento, dare una valutazione, le prime due ipotesi, quelle che abbiamo commentato, che non abbiamo risolto, erano sicuramente più veloci, più veloci dal punto di vista del carico sul database, perché la query era semplicemente, dammi le medie, più veloci dal punto di vista dell'implementazione, perché come vedete l'implementazione era tutta qua, non dovevamo fare la query complicata, il metodo del DAO in più, vabbè sì, c'era un metodo che aveva un campo in più, ma c'erano già lì dentro, e non dovevamo pensare a debaggare quella query complessa, e non dovevamo costruirci le denti di map, perché non ci sarebbe servita, e così via, ok, quindi chi ha avuto questa idea, di queste varie ipotesi, in cui mi calcolo la media, perché tanto poi mi serve dopo per calcolare gli archi, ha fatto bene, chi non c'è arrivato, non ha visto, diciamo così non se ne è accorto, non c'è problema, la via classica, che è quella di farsi i calcoli uno per uno, è un pochino più lunga, ma arriva comunque lo stesso risultato, ok, ci manca il punto 1D per finire il punto 1, ma come vediamo ormai siamo al, la parte più lunga l'abbiamo completata, trovare nel grafo e stampare a video il locale commerciale migliore dove trascorrere la serata, tale locale è definito come il vertice del grafo, per cui la somma dei pesi dei suoi archi entranti, meno la somma del peso dei suoi archi uscenti, sia massima, allora se il grafo è giusto, gli archi sono giusti, noi non abbiamo verificato i pesi, ma direi che, ci accorgiamo subito se sono sbagliati, dobbiamo semplicemente calcolare questo massimo e associarlo al locale migliore, al bottoncino locale migliore, quindi abbiamo, aggiungiamo nel model un nuovo metodo, public, mi ritorno a un locale, quindi un business, get locale migliore, a questo punto non ha bisogno di parametri, perché in realtà lavora con i dati che ha appena creato, e dovrà semplicemente trovare il massimo di una certa funzione, che dipende dalla somma degli archi entranti, uscenti, eccetera, quindi devo iterare su tutti i vertici del grafo, quindi posso farlo sul business b tis.grafo.vertexset quindi per tutti i vertici del grafo vado a calcolare un valore che è dato dalla somma dei pesi degli archi entranti meno il peso degli archi uscenti, quindi avrò un valore, lo mettiamolo a zero, lo partiamo da zero e lo sommiamo, facciamo semplicemente una sommatoria di tutti gli archi entranti, for default weighted edge e gli archi entranti nel vertice b che cosa sono? li posso ottenere dal grafo col metodo incoming edges of gli archi entranti di ok? quindi mi da una lista, una collection di archi entranti che entrano nel vertice b per ciascuno di questi aggiungo al valore il suo peso il peso di questo arco quindi al val incremento lo incremento di una quantità pari al peso di E quindi this.grapho .get edge weight di E poi devo sottrarre gli archi uscenti allora le stesse due righe le duplico dove vado a prendere a questo punto non gli archi entranti ma gli archi uscenti gli outgoing edges e decremento questo valore ok? quindi prendo un vertice per ogni vertice gli archi entranti i pesi di ciascuno di questi archi entranti li sommo tutti e poi gli archi uscenti li sottraggo da questo valore alla fine ho questo valore di cui devo calcolare il massimo ok? quindi avrò un valore massimo double max uguale 0 business result uguale null per ora non lo conosco e poi qua dopo aver calcolato questo valore semplicemente controllo il massimo se il valore è maggiore del massimo allora max uguale val e result uguale b il riferimento b non ho bisogno di fare una copia mi basta reference perché non lo sto modificando alla fine di questo ciclo for più esterno ho il risultato che nel caso in cui non ci fossero vertici o il peso fosse tutti zero rimane null altrimenti mi ritorna un business vero e proprio qui lavoro semplicemente sul grafo questo metodo lo richiamo dal mio controller getlocalemigliore si chiama quindi nel controller avevo un metodo dolocalemigliore e semplicemente dovrò fare business b vabbè chiamiamolo uguale model punto getlocalemigliore e a questo punto devo semplicemente stampare ah qui l'oggetto business non l'avevo ancora importato no no non crea classe import da model e quindi dovrò stampare txtresult il business punto append text append text locale migliore migliore due punti best punto get business name direi a capo più una capo ok vediamo cosa esce allora vediamo un attimo prendiamo phoenix 2005 crea il grafo locale migliore barrio caffè quindi è giusto almeno in questo caso ma dovrebbe esserlo anche negli altri chiara mi chiede io ho usato due metodi che si chiamano in degree of e out degree of anziché quelle che ho usato io che sono appunto dove siamo nel model in coming edges of direi che non va bene perché in degree of ti dice quanti sono gli archi entranti mentre a noi non interessa solamente quanti sono gli archi ma dobbiamo fare la somma dei loro pesi perché gli archi non sono tutti uguali questo è un grafo pesato quindi andrebbe bene in un grafo non pesato dove mi dice quanti sono gli archi entranti quanti sono gli archi uscenti e faccio la differenza tra il numero di archi invece qua non devo fare la differenza tra il numero di archi ma la differenza tra la somma dei pesi di questi archi quindi devo proprio andare a prendere gli archi uno a uno e estrarre il loro peso l'altra nota è che in questo caso ci è venuto questo ma nel terzo esercizio ad alcuni veniva un valore diverso nel terzo esempio adesso andiamo a pescare chissà cosa mi viene perché ci sono dei valori a pari merito quindi calcaremo il massimo ma in realtà potrebbero esserci due locali che hanno lo stesso valore massimo della differenza e ovviamente a seconda dell'ordine con cui cicliamo all'interno dei vertici può venire fuori uno può venire fuori l'altro questo è un dettaglio cui non avevamo pensato quando abbiamo scritto il testo e qualcuno si è preoccupato perché non gli veniva il risultato giusto in realtà era un altro risultato quindi tempi 2013 a me veniva Andrew's BBQ che è diverso da questo You Fatai Chicken che era indicato nel testo però andando a vedere i numerini dovremmo vedere che il valore della differenza tra gli archi entranti e gli archi uscenti di Andrew's BBQ è uguale a quello di You Fatai Chicken e quindi dovrebbe essere equivalente in realtà quando chiede dammi il migliore c'è sempre da chiedersi ma se ce n'è più di uno pari merito cosa devo fare in questo caso non ci diceva nulla e quindi dice dammene uno purché abbia il valore massimo di quella funzione ok e qui abbiamo quindi completato il punto 1 può rimostrare il metodo per il migliore sicuramente mentre faccio il commit così ve lo potete anche andare a prendere punto 1 di fine punto 1 ok questo dovrebbe essere finito anche su github e quindi lo potete guardare direttamente anche da lì ok qui abbiamo completato il punto 1 del nostro esercizio ok era forse un po' lungo perché c'erano diverse query da fare ma l'unica appunto diciamo così non dico difficile ma di ragionamento era come spesso è sugli archi e sul peso degli archi che si poteva fare veramente in modi molto diversi il punto 2 in realtà era più facile di quanto era più breve ma succede molto spesso nel senso che una volta che uno ha fatto tutta l'infrastruttura per prendere i dati calcolare il grafo eccetera poi il punto 2 è forse concettualmente più difficile ma dal punto di vista del codice non è che sia molto più lungo qui ci chiede di fare una procedura ricorsiva per calcolare un cammino tra un locale di partenza B e un locale di arrivo che è il best che abbiamo appena calcolato ok percorso fatto di archi del grafo che il cui peso sia superiore a una certa soglia questa poi è la sostanza quindi dobbiamo come procedura ricorsiva costruire un cammino fatto di più vertici consecutivi ovviamente solamente prendendo gli archi che hanno un certo peso maggiore di X e trovare tra questi cammini possibili che partono da B e terminano nel locale best a trovare il cammino di lunghezza minima su questo minima ci sono alcuni di voi che hanno osservato che in realtà è banale perché ci sono già spesso l'arco diretto quindi quando trovo un arco diretto il cammino minimo è quello infatti probabilmente l'esercizio avrebbe dovuto chiedere di lunghezza massima avrebbe avuto più senso cioè il cammino che ti permette di toccare più locali sempre seguendo queste regole però lo vediamo quindi probabilmente il testo avrebbe se avesse chiesto massima sarebbe stato meglio avrebbe avuto più senso l'esercizio prima di entrare nel codice rispondo ancora Giovanni che mi dice giustamente mi fa notare che nel controller get locale migliore lo chiamo alla cieca in realtà il bottone get locale migliore dovrebbe essere attivabile dovrebbe avere senso attivarlo solamente se il grafo è stato creato quindi io qua dovrei mettere dei controlli che quando solamente quando il grafo è creato posso cliccare sul locale migliore assolutamente sì sono dei controlli che diciamo così fanno parte dell'applicazione però lasciatevi per ultimi nel senso che io preferisco avere un codice in cui c'è l'algoritmo che funziona correttamente mi dà il dato corretto e poi c'è un caso in cui se l'utente clicca i bottoni nel modo sbagliato il programma dà un'eccezione o non dà un risultato corretto e va bene piuttosto che avere un programma che fa tutti i controlli minuziosamente negli ultimi dettagli e poi quando gli chiedi di calcolare il valore te lo calcola sbagliato oppure sbaglia a creare il grafo ok quindi le priorità è sempre avere prima di tutto corretto l'algoritmo i dati i dataset i risultati poi chiaramente all'interno di quello cerchiamo di prevenire e gestire tutti i possibili errori questo assolutamente sì però è su una priorità nettamente inferiore ok quindi se giustamente come dici tu possiamo tralciare questi controlli se non c'è tempo certo il programma perfetto avrebbe tutti i controlli però se io mi trovassi nell'ultima mezz'ora a questo punto senza controlli direi senti investo questa mezz'ora per fare il punto 2 e quindi magari prendo un punto in meno nel punto 1 dell'esercizio perché ho dimenticato un controllo ma poi magari mi prendo 10 punti perché ho fatto la ricorsione ok quindi giocategli bene nel vostro tempo ok appunto parlando di mezz'ora per fare la ricorsione lavoriamo sempre dentro il nostro model dove è finito il model qua e cosa dobbiamo creare dobbiamo costruire il percorso migliore quindi possiamo definire un metodo public una lista un percorso una lista di business che possiamo chiamare percorso migliore allora questo è il metodo che viene richiamato dal controller cosa deve specificare il controllo il controllo deve specificare il vertice di partenza il vertice d'arrivo e il valore soglia di x torniamo la soglia non x perché x è un nome che dice poco e quindi dice guarda da questa partenza a questo arrivo con questo valore soglia dimmi qual è il percorso migliore questo business di partenza facciamo return null per non far arrabbiare il compilatore e poi anzi sì questo business di partenza deve essere scelto dall'utente da una tendina ok quindi dobbiamo popolare ancora questa tendina la tendina questa qui con locale ma questa è facile da popolare perché basta riempirla con i vertici con i vertici del grafo quindi basta semplicemente aggiungere un metodo al modello che mi ritorna i vertici aggiungiamo anche in fondo public list di business get vertici return this.vertici e basta di modo che il controller chi so perché ho congiato questo di modo che il controller non appena ho creato il grafo ok quindi quando mi stampa il messaggio grafo creato non appena faccio questo vado a popolare la tendina con i vertici di quel grafo lì quindi questa prima non ci serviva adesso però ci serve combo box locale devo dire che questa combo box contiene dei business quindi combo box locale punto get items punto add all add punto non hanno cosa si add all di model punto get vertici attenzione però che se io sto richiamando che la grafo più volte add all ogni volta mi aggiunge delle voci e quindi devo prima di tutto svuotarla la vista prima di aggiungere locale punto get items punto clear ok quindi in questo caso se rifaccio run creo un grafo qualsiasi e vedo che in questo locale ci sono i quattro business elencati che corrispondono ai quattro vertici dei grafi ovviamente mi serve un to string da aggiungere alla classe business per non vedere queste oscenità qua di codici ma facciamo in fretta ad aggiungerlo basta aggiungere qua in fondo un public string to string e gli mettiamo un return dis.business name così viene fuori qualcosa di più decente quindi scelgo una città a caso un anno a caso crea grafo ecco qua e compaiono i nomi quindi poi l'utente potrà qua scegliere il punto di partenza e un valore di una soglia quindi il controller per lanciare la ricorsione possiamo partire dal controller questa volta nel calcolo percorso dovrà trovare il vertice di partenza e lo prende dalla tendina locale punto get value dovrà prendere il vertice di arrivo che può chiedere al al model di calcolare get local è migliore in realtà l'ho appena calcolato forse però se l'utente non avesse cliccato su quel bottone conviene sempre di calcolarlo così sono sicuro di avere quello giusto tanto non è un'operazione onerosa dal punto di vista del tempo di calcolo e poi la soglia x non è altro che double soglia lo posso prendere dal txt x si chiamava questo campo get text e lo trasformo in numero reale quindi sarà double punto parse double di questo valore qua qui ovviamente dovrò aggiungere ma li posso aggiungere in un secondo momento i controlli che partenza e arrivo siano definiti non siano nulli il valore soglia sia un numero reale quindi pass double di eccezione sia maggiore di 0 sia minore di 1 quindi aggiungere i controlli e poi finalmente calcoleremo il percorso chiedendo al model get come si chiamava questo metodo percorso migliore ah non cominciavo con get ma semplicemente punto percorso migliore ciao punto util punto list e poi semplicemente potrò stampare txt result append percorso migliore due punti a capo più percorso punto to string più ancora a capo quindi tutto pronto basta solo calcolare il percorso migliore come mai forzo l'arrivo sul locale migliore me lo chiede il testo il testo dell'esercizio dice il turista si riferisce un cammino semplice sul grafo calcolato al punto 1 che abbia le seguenti caratteristiche parta da B cioè il business selezionato nella tendina e termini nel locale migliore della città come calcolato nel punto 1D quindi questa è una specifica del progetto un cammino il cui punto di arrivo i punti di partenza sono fissi ok a questo punto ho semplicemente la costruzione del cammino torno nel model ho semplicemente la costruzione del cammino ricorsivamente quindi posso pensare alla mia procedura ricorsiva che normalmente è la soluzione parziale che fa crescere come spesso abbiamo fatto private void cerca avrò una lista di business che sarà la soluzione parziale avevamo il livello e poi eventuali altre informazioni che ci possono servire questa è la procedura che poi farà la ricorsione e dovrà andare a salvare il percorso migliore che trova Giuseppe mi dice guarda che in realtà visto che ci sono più punti di arrivo che potrebbero essere a pari merito dovresti avere una lista non solamente un singolo elemento nel punto 1D avevamo scelto uno solo il testo si diceva parlava al singolare e quindi non vedo perché mi devo complicare la vita qui parlava di il locale migliore e questo il dice uno solo se ce n'è più di uno ne ho scelto uno e quindi diciamo così di conseguenza quando faccio il punto 2 scelgo quello come punto di arrivo ok arrivo non possiamo prendere direttamente nel metodo richiamando l'altro metodo per trovare migliore non è un parametro passato all'utente non è un parametro passato all'utente è un parametro che ho scelto nel controller allora che voi che voi chiamiate arrivo uguale get locale migliore questa chiamata va fatta voi potete preferire farla nel controller oppure preferire farla nel model direttamente dentro percorso migliore è uguale scegliete dove preferite farla io l'ho fatta nel controller semplicemente perché così il percorso migliore funziona con qualunque coppia di vertici però è un dettaglio l'importante è ovviamente sapere quale è il punto di arrivo ma abbiamo già il metodo che ce lo calcola allora cosa faccio ricorsione quindi caso particolare caso terminale e caso generale qual è il caso terminale il caso terminale è quando in parziale partirò dal vertice di partenza poi aggiungerò via altri vertici ok questo lo faccio nella creazione delle soluzioni il mio caso terminale è quando raggiungo il punto d'arrivo allora a questo punto mi fermo ok ho costruito un percorso che arriva al vertice di destinazione andiamo a vedere qual è la sua lunghezza ok quindi il caso terminale ho trovato l'arrivo quindi se cosa che mi dice che sono arrivato all'arrivo se l'ultimo elemento della lista parziale è il vertice di arrivo quindi if parziale punto get di parziale punto size meno uno questo è l'ultimo è uguale equals all'arrivo allora vuol dire che ho costruito una sequenza che arriva all'overcice d'arrivo ovviamente questo arrivo la procedura ricorsiva non lo conosce e glielo dovrò passare come parametro mi chiede mi chiede se sarà possibile non passare l'arrivo come parametro ma richiamare il metodo locale solo nella condizione di terminazione no no il metodo locale migliore non chiamatemelo qua nella condizione di terminazione se no me lo state chiamando milioni di volte ok quindi se volete chiamare il metodo calcola migliore me lo chiamate qua nella procedura percorso migliore nella fase di preparazione della ricorsione e non dentro la ricorsione perché è inutile rifare lo stesso calcolo tante volte ad ogni chiamata ricorsiva ok perché mi darebbe sempre lo stesso risultato però lui comunque si va a scandire tutti i vertici fa la somma degli archi ve lo ricordate e quello è un calcolo inutile è inutile ripeterlo più volte ok quindi va fatto si può fare benissimo dentro il model ma io non lo metterò mai dentro la ricorsione calcolo questo valore e poi lo uso ok se è uguale mi salvo il risultato allora come sempre noi ci salvavamo un risultato dentro il modello quindi diciamo così variabili per la ricorsione che mi serve una ricorsione sono sicuramente una variabile lista di business percorso best diciamo e quello che andrò a rimpiazzare durante nel codice di terminazione allora questo percorso best cosa faccio lo inizializzo nella procedura pubblica quindi this punto percorso best all'inizio non lo conosco quindi diciamo che lo metto null e qui sotto vado a controllare i vari casi ho un primo caso in cui percorso best sia null allora vuol dire ho trovato il primo percorso tra quelli che arrivano alla destinazione e quindi me lo salvo diventa uguale parziale attenzione new arred dobbiamo sempre fare una copia mai un riferimento di parziale quindi e poi ho finito return quindi primo caso non avevo ancora un best e allora questo sarà per forza il best altrimenti avevo già un best e devo vedere se quello attuale è migliore o no se è più breve o non è più breve quindi il mio sarà migliore se il parziale che ottengo ha una lunghezza la size minore del best.size allora vuol dire che ho trovato un percorso più breve di quello che già conoscevo la mia funzione di merito in questo caso è la lunghezza del percorso e allora andrò a sostituire il percorso best con questo e ritorno quindi la stessa cosa quindi sto aggiornando il best o perché non ce l'avevo o perché ce l'avevo ma era più lungo di quello che ho trovato adesso altrimenti return perché sono nel caso in cui nel terzo caso in questo s sono nel caso in cui ho trovato un percorso che arriva al punto di arrivo quindi da lì non ha senso proseguire oltre ma il percorso che ho trovato non è migliore nel senso di più breve rispetto a quello già conoscevo e allora lo ignoro non devo aggiornare il best questo fa sì che alla fine della ricorsione io possa semplicemente fare return di percorso best perché l'ho aggiornato qua adesso devo semplicemente più generare i percorsi partendo dalla soluzione parziale e andando via via avanti quindi diciamo così sono nella generazione dei percorsi io sono in un vertice e devo andare avanti al vertice a trovare tutti i vertici successivi quindi parto da un vertice attuale e vado a vedere quali sono quelli vicini allora per comodità fatemi chiamare perché sto già pensando che lo devo usare più volte ultimo proprio il vertice ultimo della lista parziale parziale punto get parziale punto size meno uno ecco questa cosa qua la possiamo anche mettere sopra così questo ultimo era qua l'ultimo è l'ultimo della soluzione parziale l'ultimo vertice su cui termina il mio pezzettino di percorso che sto costruendo quindi se l'ultimo è proprio il vertice d'arrivo faccio il caso terminale altrimenti vado a cercare cerca gli adiacenti a ultimo i successori di ultimo da tutti i suoi vertici uscenti dunque Giovanni mi sta richiedendo se da fuori cerca creiamo dimensione minima e utilizziamo un solo if ma se si può fare avere una variabile in più che si ricordi la dimensione di un array ma chiamare il metodo size ha complessità costante quindi non richiede di scandire l'array quindi diciamo così dal punto di vista della complessità è analogo semplicemente se questa variabile ha dimensione minima devi ricordarti di aggiornare anche lei oltre ad aggiornare la lista ma non ci vede un grosso vantaggio in termini di risparmio di tempo Mario mi dice il primo passo stai mettendo quando trovi percorso best uguale a nada lo stai mettendo nel best il primo percorso che trovi ma poi non lo cambierai mai perché non troverai mai i percorsi più brevi attenzione io non sto mettendo a best il primo percorso il primo trovo sto mettendo il primo percorso completo che arriva all'arrivo quindi io non so se quello che arriva il primo che troverò che arriva al vertice di terminale avrà un arco ne avrà due ne avrà tre ne avrà quattro quindi non sto facendo il primo passo come scrivi tu di mettere il parziale best lo sto facendo la prima volta che la soluzione parziale arriva al vertice finale che potrebbe non essere al primo passo della ricorsione potrebbe aver già fatto un percorsino un pochino più lungo dipende dall'ordine con cui vengono considerati i vertici quindi non è vero non è un problema quello che stai dicendo ok dicevamo cerco i successori vabbè a questo punto semplicemente io ho ultimo e quindi vado a cercare e iterare tutti gli archi di default weighted edge in uscita sì perché mi serve anche il peso non mi bastano i vertici mi serve anche il peso quindi o devo iterare sugli archi che devo iterare sugli archi uscenti dal nostro vertice ultimo quindi this punto grafo punto outgoing edges of ultimo ho tanti archi uscenti devo solo considerare quelli che hanno un peso maggiore della soglia quindi if innanzitutto il peso this punto grafo punto get edge weight di questo arco e è maggiore della soglia allora devo fare ricorsione vai giorgia ha usato successors list of che va bene per trovare i vertici ma poi devi trovare i pesi degli archi perché qui come fai a mettere maggiore di soglia perché tu avresti nel ciclo for il vertice puoi andare interrore il grafo e chiedere qual è il peso dell'arco tra questi due vertici sicuramente lo puoi fare successors list of mi da già il vertice di destinazione outgoing edges mi da l'oggetto arco soglia non ce l'ho qui ma devo aggiungerlo allora come parametro della ricorsione in modo che sia visibile alla procedura ricorsiva e a questo punto se questo arco è così devo fare ricorsione quindi avrò la solita classe la solita meccanismo parziale punto add aggiungo che cosa il vertice che ottengo attraversando l'arco e quindi su questo c'è quel metodo che avevamo già visto get opposite vertex il vertice opposto a ultimo usando l'arco e quindi this punto grafo vertice ultimo no all'arco e scusate e il vertice ultimo quindi aggiungo il vertice che trovo dall'altro capo del lato e rispetto il vertice ultimo se George ha usato successo list of ha già il vertice successore quindi per lei è più semplice questo è un pochino più complicato questo perché andassi a recuperare il peso conoscendo i vertici poi faccio ricorsione cerca parziale livello più uno poi devo ricopiare semplicemente arrivo e soglia e poi faccio backtrack quindi rimetto le cose a posto parziale punto remove parziale punto size meno uno togli l'ultimo che ho appena messo e rimettiamo le cose a posto il testo parla anche di cammino semplice cammino semplice vuol dire che devo evitare di inserire due volte lo stesso vertice quindi in realtà dovrei anche controllare se questo vertice opposto ce l'ho già nel mio cammino parziale dovrei mettere un contains in più per come è fatto questo grafo in cui gli archi sono tutti crescenti sono tutti orientati dalla stessa parte questo non può mai capitare è un grafo senza cicli questo per come l'abbiamo costruito quindi possiamo evitare di fare questo controllo però in teoria quando parlo di grafo semplice dovrei controllare ancora che il vertice che la destinazione non sia già in parziale altrimenti rischiamo di fare poi cicli infiniti se il grafo fosse ciclico non faccio questo controllo la ricorsione si va avanti all'infinito il livello si può togliere visto che non usiamo si oppure Manuel dice invece voglio sfruttare per fare controllo se siamo arrivati a terminazione no perché la terminazione non ce l'ho sul livello cioè su quanto è lungo il percorso ma ce l'ho sul fatto che il vertice ultimo sia uguale a quello dove dove arrivare quindi si posso usare livello anziché parziale punto size se volete cioè livello e parziale punto size hanno sempre lo stesso valore se vogliamo negli if interni qua livello minore di ah si insomma piccole cose il breadth first Francesca hanno scritto un messaggio diretto usare breadth first anziché scriverlo tutti breadth first iterator è sbagliato sì è sbagliato usare breadth first iterator perché mi trova i cammini di lunghezza minima ma che non è detto che rispettino ad esempio la condizione di essere di avere un peso maggiore della soglia e quindi devo farmi il calcolo a mano ricorsivamente perché ho delle condizioni più complicate rispetto a quelle che mi danno le classi di base di visita del grafo o di calcolo dei cammini minimi a che serve il controllo che la destinazione non sia già imparziale il calo terminale non controlla non la destinazione ma l'opposite vertex non la destinazione finale ma il prossimo vertice che sto dai facciamolo facciamolo faccio prima farlo business prossimo quello che voglio aggiungere è uguale a questo questo è quello che voglio aggiungere ok e aggiungerò il prossimo passimo prossimo passo ok adesso questo lo devo fare solamente se il prossimo non è già contenuto dentro la quindi non è l'ultimo è il prossimo passettino che sto per fare quindi lo aggiungo solamente se not parziale contains prossimo e allora posso aggiungerlo se invece già lo contenesse non dovrei farlo perché creerei un ciclo ok questa operazione qui noi andavamo a limare il punto size è quella che costa più di tutta questa procedura ricorsiva perché va a fare una scansione lineare nel vettore parziale nella lista parziale in questo esercizio visto che il grafo è aciclico poteva non servire in generale però dobbiamo metterlo ok vediamo se riusciamo magari in un minuto o due a chiudere il tutto perché in realtà la procedura ricorsiva forse è finita se non ho dimenticato dei pezzi bisogna solamente chiamarla passandogli il parziale cioè il livello eccetera i valori iniziali quindi dobbiamo dichiarare una nuova lista parziale list di business parziale uguale new array list vuota punto e virgola cosa so fatto qua poi a differenza degli altri casi in cui facevamo la ricorsione partendo da una lista vuota qui in questo caso il primo elemento della lista è fisso ed è il punto di partenza quindi in parziale ci metto già un elemento non parto dal livello 0 ma parto dal livello 1 l'elemento di partenza e a questo punto dovrei semplicemente chiamare cerca partenza livello 1 arrivo soglia dunque cerca list business parziale livello business arrivo cos'è che mi dice list business int int livello si poi c'è un business e un double partenza int ah grazie parziale grazie per il debug vediamo se fa cosa fa quindi dobbiamo caricare qualcosa prendiamo il nostro phoenix 2005 crea grafo scelgo un locale migliore sappiamo che è barrio caffè scegliamo un locale di partenza che ne so chasefield soglia mettiamo 0 calcolo percorso mi dice da chasefield a barrio caffè se prendessi un altro punto di partenza in questo caso mi trova anche sempre questo può darsi che se io mettessi una soglia più grande potesse trovare dei percorsi più lunghi perché magari mettendo la soglia più grande cerco dei vertici in più oppure attenzione qua c'è un'eccezione sotto perché può darsi che il percorso non esista perché magari non ci sono gli archi ok sapete che non abbiamo messo tutti gli archi nel grafo perché quelli di peso 0 non c'erano e quelli che magari hanno un peso minore della soglia non vengono considerati quindi qua devo ancora sistemare questo null pointer exception e però come osservavate osservava qualcuno di voi in settimana nella chat in molti casi il percorso migliore è sempre di un passo solo perché il percorso più breve è di un passo solo perché gli archi ci sono quasi tutti all'interno di questo grafo è un grafo non orientato ma molto connesso verso l'avanti essenzialmente e quindi quasi sempre il percorso quando lo trovo è un percorso di un passo solo sarebbe stato più interessante come dicevamo avere un percorso chiedersi il percorso più lungo anziché il percorso più breve ma in questo caso noi facciamo in fretta farlo perché basta mettere un maggiore qui e ci accorgiamo che magari è più interessante il risultato che troviamo e poi vi lascio Phoenix ho fatto il double non ho dimenticato di mettere il double e vedete che qua trova dei percorsi anche più lunghi usando certi archi se io metto invece una soglia maggiore non sono 0,5 0,6 mi è venuto non riesce a trovare un percorso altrettanto lungo lo trova solo più corto perché gli mancano alcuni archi che prima aveva usato ok quindi in realtà la parte interessante sarebbe stata in questo esercizio la quale trovare il percorso più lungo non il percorso più breve per come ha fatto il grafo però nel testo era scritto così è stata un po' una svista da parte nostra allora questo esercizio qua è quasi concluso nel senso che devo mettere i controlli degli errori nel controller per controllare per verificare che il locale e la soglia sono stati inseriti correttamente e un controllo nel caso in cui il best non venga trovato allora anche il controller alla fine anziché dare un'eccezione in un pointer exception deve dirmi non esiste il percorso che stai cercando quindi direi allora la ricorsione è qua che mi chiedeva Giorgia ok allora io vi lascerei qua perché abbiamo già sforato abbastanza se mi date ancora 10 minuti così termino l'esercizio aggiungendo il controllo dell'errore così poi vi faccio un commit e abbiamo la soluzione completa per oggi e così domani mattina possiamo invece cominciare a divertirci su un problema diverso se avete ancora dei dubbi o dei punti che non siamo riusciti a trattare continuiamo la conversazione in asincrono sul canale Telegram e in ogni caso noi ci vediamo domani per la simulazione d'esame grazie a tutti scusate per aver sforato ma eravamo quasi alla fine quindi spero di non aver rovinato la lezione successiva se ne avevate una subito dopo grazie ancora e arrivederci ai prossimi giorni grazie a tutti